Stefano Silvestri, si può parlare, parlando di amianto, trattando dell'amianto, di un'emergenza sottovalutata? Dipende da che punto di vista la si guarda. Da un punto di vista dell'esposizione della popolazione generale non siamo in emergenza. Da un punto di vista della prevenzione di eventi eccezionali, della programmazione per poter togliere l'amianto quando è il momento, senza aspettare l'evento eccezionale che ce lo fa togliere comunque, da questo punto di vista siamo in emergenza. Anche perché con il ritmo attuale la bonifica durerà per altri 60 anni. Stiamo parlando, con la mostra che poi abbiamo visto, di una corretta informazione nei confronti della cittadinanza. Si possono individuare, ad esempio, molto diffusi, tra anche più piccoli, alcuni giochi che contenevano amianto, che celavano amianto? Sì, questo però nel passato remoto. Il DAS dal 62 al 75, il dolce forno fino ai tempi più recenti, fino alla fine degli anni 80, ma con una enorme differenza tra i due. Dolce forno, pensare che vi fosse un'esposizione da chi usava il dolce forno, è veramente remota la possibilità. Magari se un bambino aveva le manie della meccanica, poteva smontare e prendere il cartoncino che serviva da schermo per la lampadina che scaldava il forno. Però la possibilità di esposizione era veramente remota. Mentre con il DAS, in particolare i primi tre anni in cui è stato prodotto in polvere, prima dell'impasto con l'acqua, sicuramente spolverava. Le istruzioni parlavano chiaro, si poteva spolverare sul tavolo per lavorarlo un po' come si fa con la pasta della pizza e la farina. Oppure una volta indurito, per rifinirlo, dovevano essere usati raschietti e carta a vetro che sicuramente producevano polvere. Quindi forse il DAS è stato quello che magari ha diffuso un po' l'esposizione anche a una popolazione molto giovane, ma non solo perché il DAS era anche un prodotto industriale. Cioè veniva utilizzato in laboratori artistici anche da adulti. Il DAS ci fu segnalato nella prima occasione della presentazione della mostra nel 1991 da un restauratore di vasellame archeologico.